ciao oggi ottobre 27 escono dei nuovi cash back sul sito di olympus o m digital solutions scusate guardiamoli insieme abbiamo subito in evidenza cash back sulla o m1 e sulla o m5 quindi abbiamo 350 euro di cash back sulla o m1 l'offerta è valida dal 27 che oggi fino al 2 di novembre quindi una settimana dopodiché possiamo compilare il modulo fino al 16 di novembre quindi l'importante è fare l'acquisto entro questa data e poi effettuare il modulo entro quest'altra data il 16 novembre andiamo a vedere tutto quello che viene dato in offerta nel cash back perché il cash back non è soltanto sulla o m1 ma è anche su e sulla m5 ma è anche sugli obiettivi quindi andiamo subito a guardarlo insieme abbiamo sulla o m1 un cash back di 350 euro sia sulla o m1 solo corpo che sulla o m1 con alcuni obiettivi sulla o m5 il cash back è di 300 euro sia sul corpo sia sul su alcuni set fatti con o m5 e o alcuni obiettivi oppure possiamo vedere che sugli obiettivi pro abbiamo 200 euro di cash back 200 euro di cash back sul 40 50 2 8 sul 8 25 sul 7 14 2 8 andiamo avanti tutti gli obiettivi pro anche il 40 150 f4 pro il anche il 100 400 che non è un obiettivo pro però comunque un obiettivo abbastanza costoso quindi diciamo gli obiettivi costosi offrono un cash back di 200 e anche il 300 f4 un cash back di 200 e dopodiché gli obiettivi 1 e 2 e diciamo gli zoom pro ancora il 20 mm 1 e 4 pro che è una cosa che è una lente a cui sono interessato invece ha un cash back di 100 quindi sulla pagina web sul sito il cash back è in ordine dal più alto al più basso dal 20 mm 1 e 4 il cash back diventa di 160 mm di 100 che ha già un buon prezzo del 60 mm visto che non lente che sul mercato già da alcuni anni dopodiché tutti gli altri sono 100 euro quindi 100 euro sul 17 18 mano è un'ottima offerta anche sul 25 una notte su 45 18 ottima offerta questo trittico di lenti fisse molto piccole combatte compatte luminose con un cash back di 100 euro luna è una cosa che ha veramente senso il meraviglioso 75 1 8 e il 12 mm f2 100 euro di cash back sono veramente interessanti addirittura abbiamo un 100 euro sul 9 18 lente che ho avuto il passato lente che non costa molto quindi 100 euro di cash back non è male e invece l'unico che a 50 euro è il 40 150 r il plastic fantastic lente che per quello che costa è eccezionale quindi torniamo indietro a vedere i sistemi di o m1 o m1 dovrebbero essere due pacchetti abbiamo il cash back di 350 su questi due pacchetti il pacchetto solo corpo il pacchetto corpo più 12 40 versione 2 ecco se andiamo sulla o m5 anche qui qui abbiamo già uno sconto sulla macchina dovremmo avere lo sconto di 300 euro su ognuno di questi pacchetti ed ecco che potremmo prendere una o m5 che come dicevo come detto in tanti video non è una macchina che mi fa impazzire perché ha il connettore micro usb invece dell'usb c però vabbè volendo ci si arrangia con un con un connettore fra usb c e micro usb comunque una macchina che già era in offerta con 179 euro di risparmio se tra questo aggiungiamo 300 euro di cash back ecco che possiamo possiamo avere una macchina nuova l'ultimo modello che ripeto essere praticamente la e m1 mark 3 infilato in un corpo della m5 mark 3 quindi la m1 mark 3 era un'ottima macchina se ne infiliamo dentro un corpo piccolo quello delle m5 siamo a cavallo abbiamo un ottimo un ottimo prodotto a direi a questo punto 1120 a cui dobbiamo tirare via 300 ma a 820 euro beh direi che è un ottimo affare ciao